Buona visione con Panini Buona visione con Panini Lunghissimo nelle varie edizioni dell'album Calciatori Panini E ripercorrendo le figurine e gli album potremo anche raccontare quelli che sono stati gli anni della storia calcistica italiana Nella scorsa puntata abbiamo analizzato i primi due album, ovvero il 61-62 e il 62-63 Oggi partiamo con il parlare dell'album 63-64 Per quanto riguarda la copertina vediamo che è dedicata ad Ardico Magnini in una rovesciata con la maglia italiana Passiamo subito alle caratteristiche dell'album Vediamo che le figurine sono 421 per 52 pagine L'album costa 50 lire mentre i pacchetti di figurine che contengono 3 figurine costano 10 lire Il 63-64 per quel che riguarda il campionato è un anno che passò alla storia come veramente avvincente Furono due le motivazioni